Siamo qui nel palazzetto Ariada a Volsk dove faremo questa bellissima installazione in questo palazzetto oggi siamo stati invitati qua nell'area B come vedete Arbitro Russia ok purtroppo sta facendo i lavori nella piazza qui potete vedere un storico bellissimo il palazzetto c'è una colla satoriana come vedete qui il tempo c'è molto sole, cielo azzurro, palme ascolto ok ciao 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 a tutti ragazzi siamo in Russia no stai qua ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti